Previsioni meteo per martedì 26 marzo. Al nord coperto con pioggia debole in Romagna, nuvoloso con locali aperture sulle pianure emiliane, sereno sulle Dolomiti, nube sparse con ampie schiarite altrove. Al centro nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana. Al sud sereno sulle pianure sulla dorsale calabra, coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana, sulla dorsale lucana, venti moderati dai quadranti occidentali deboli da est, mari generalmente mossi, temperature in forte calo ovunque.